E' giunta di nuovo l'ora di ricevere gli opuscoli gratuiti per le vacanze Di dire qualcosa di particolarmente carino No, è giunta l'ora della lezione del giorno e per scoprire quale sarà ci rivolgiamo alla ruota della moralità Ruota della moralità, vai vai vai, dici la lezione che oggi ci insegnerai Abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao inferiore Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti